Buongiorno, buongiorno, questa sarà la mia ombra oggi, sono lei, che ne sono? 6,90, meno un 4, 5,90, 6,90, la domanda è se ci arriveremo mai a lì, varianze a Milazzo, partiamo da cose semplici. Ma che risate che mi stavo facendo, sei in mezzo, fai cose proprio, mancheresti tipo quando dalle mame, sei in mezzo, tipo troppo attivi. Non so, perché devo ombri a chi li sono, e quando devo ombri a chi li sono, e fai. Dove devo andare? Ma dove ti porto alla strada? Gli data! Benvenuti a Liberty Island Io so chi sei, sei Giannananini Ma ti puoi sapere cos'è questo rumore tipo di pioggia? Io lo so, è il frigor che fa vibrazioni e il coso che fa me lo sbattimento delle palle Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti